Gentili telespettatori, eccoci con l'occhio di Abate, una puntata diversa, quella di quest'oggi. Ci sarà una prima parte in cui parleremo dell'ottavo decreto Salva-Ilva, con tutti gli annessi e connessi. Beh, evidentemente esiste a Taranto, per Taranto, la licenza di uccidere, tra virgolette, di uccidere a causa dell'inquinamento. Un ottavo decreto che in buona sostanza dice, signori Tarantini, tenetevi l'inquinamento, dovrete anche considerare il rischio e sopportare il rischio di passare all'altro mondo, perché prioritaria è la produzione, prioritario è il lavoro che sovrasta, che viene anteposto purtroppo e vergognosamente rispetto alla salute. E poi una seconda parte in cui vogliamo far vedere le cose belle di Taranto, per farvi capire come esiste un piano alternativo all'Ilva. Dicevo una seconda parte di positività, e quindi mare, turismo, cultura. Lo faremo con Valerio Lessa, consigliere comunale di Taranto, vicepresidente della Commissione Servizi. Lo faremo con l'ammiraglio Francesco Ricci, curatore del Castello Aragonese di Taranto. Lo faremo con Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. E poi ancora Nicola Mancini, presidente di Taranto Canoa, e Roberto Conversano, dirigente responsabile del Cus Ionico Basket. Una parte quindi costruttiva. E poi ancora alla fine le vostre segnalazioni, lo sportello del cittadino. Come vedete una puntata tripartita, ricca, per tutti i gusti, per tutte le esigenze, e soprattutto per la libertà di informazione. Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, il venerdì, come ogni venerdì alle ore 21. E in replica la domenica, ore 14.30. L'occhio di Abate, l'occhio che guarda e dice quello su cui altri tacciano.